Si farà il punto sul Pala Giustizia Satellite di Missina martedì prossimo nella sala lavatino del Ministero della Difesa alla presenza di autorità locali, parlamentari nazionali e di esponenti dei dicasteri interessati. Del secondo Pala Giustizia se ne parla da lontano febbraio 2017 quando l'allora primo cittadino Renato Accorinti firma un accordo con il Ministero della Difesa per fare dell'ex ospedale militare il Pala Giustizia Satellite in questione. All'insediamento della Giunta De Luca però ci si è resi conto della necessità di esosi lavori di adeguamento sismico della struttura. La scelta dell'amministrazione comunale è stata quindi quella di abbandonare l'idea dell'ex ospedale militare e creare un nuovo Pala Giustizia nella zona della via La Farina dove si trova il parcheggio. Già da tempo ho avviato i contatti fra le parti per definire l'incontro esecutivo facendo seguito al dialogo intrapreso con i ministeri competenti e ha dichiarato la senatrice del Movimento 5 Stelle Grazie ad Angelo che lo scorso 24 maggio insieme ai portavoci messinesi Francesco Duval, Alessio Villarosa, Valentina Zaffarana, Antonio De Luca, Barbara Froliti e Antonella Papiro aveva presentato in interrogazione parlamentare per avere tempistiche certe sullo stato delle procedure. Servi a poco ribadire l'importanza dell'opera per l'intera classe forense e ha continuato la pentastellata. Dopo decenni di chiacchiere e progetti mai portati a termine è adesso indispensabile velocizzare il più possibile i tempi e dare risposte concrete alla città portando a compimento quanto stabilito dal protocollo di intesa firmato dal Comune di Messina, dall'Agenzia del Demanio e da due ministeri. Non è accettabile continuare a spendere milioni di euro in fitti passivi a fronte di un progetto già approvato e finanziato. Adesso è fondamentale, ha concluso poi Grazie ad Angelo, remare tutti quanti nella stessa direzione in nome dell'interesse comune mettendo da parte logiche politiche e polemiche che non servono a nulla. L'auspicio è che il vertice di martedì al Ministero della Giustizia non si trasformi in un nulla di fatto e che possa mettere la parola fine alla questione legata al Palagiustizia.